Nell'ultima sfida allo Iacovone contro la Cavese fu il vero protagonista in campo. Autore di una doppietta in quella circostanza, oggi Cristiano Ancora si candida per presentare la finale in programma domani. Bisognerà avere coraggio per battere i metelliani, ha detto l'attaccante rosso-blu. Domenica per vincere ci vuole coraggio e tanta personalità. Io sono sicuro che abbiamo tutto per vincere questi bluff. La Cavese parte favorita perché ha il fattore campo dalla sua, ma anche due risultati su tre. Ma questo, per Ancora, potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Anche l'Altamura aveva due risultati su tre. Siamo passati in vantaggio noi ed è cambiato tutto. È cambiato tutto, una partita nella partita. Penso che noi non dobbiamo fare questi calcoli. Intanto abbiamo 120 minuti e non 90 minuti. E noi stiamo bene, almeno. Di questo, cioè che noi stiamo bene fisicamente ne sono sicuro. Non so come ci arrivano loro. Non vogliamo sentire parlare di ultima partita, degli ultimi tre giorni. Non stiamo pensando a questo, stiamo pensando alla Cavese. Perché comunque vogliamo regalare questa piccola gioia ai nostri tifosi. Magari ne meritano tante altre, ma vogliamo dare questa soddisfazione di tornare da Cava con questi bluff in tasca.